Ma sarà giusto tenerlo nel letto con noi? Cos'è? Sei geloso? Perché non è più tutta l'attenzione per te? No, è che penso tutto il giorno con la mamma, anche la notte, sempre attaccato, non è che mi diventa gay. Sì, dico così per dire, non è che sono omofobo. Lo so, però sei un po' dura di comprendonio. Lui sta con noi perché ha bisogno di riconoscermi quando si sveglia, così si tranquillizza. Ah, ecco perché mi sveglio sempre tutto agitato, perché non ti riconosco. Quindi ti guardo e penso, quando fai quella gnocca che pensavo che dormiste nel letto con me? Certo, e io invece penso, questo demente non è mio marito, quello è l'intelligente. Si vede che ho messo tutto nel concepimento. Ah, certo, infatti tuo figlio diventerò un premio Nobel, perché a te il tesoro non è rimasto più niente. Ecco. Amore, ti sei svegliato per le battute acide di mamma, eh? No, ha solo bisogno di essere rassicurato, ha paura che lo lasci da solo con te nel letto. No. Amore, ti sei svegliato per le battute acide di mamma, eh?